Musica Timbravano il cartellino e poi via dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Sette dipendenti in servizio presso un ufficio regionale con sede a Cosenza sono stati beccati dalla Guardia di Finanza grazie all'ausilio delle telecamere. Per tutti l'accusa è di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Sottoscritto dai parlamentari del Partito Democratico, la Camera ha approvato l'ordine del giorno sulla sanità che recepisce il grido d'allarme della conferenza dei sindaci calabresi. Il commissario critico nei confronti dell'iniziativa del presidente Oliverio che ha incontrato i sindaci a Catanzaro, i primi cittadini di Cescura non sanno nulla di sanità. Disarticolata una banda di rapinatori protagonista di una serie di rapina di esercizi commerciali nei territori di Polistena, Tauria Nova e Cittanova, il gruppo di malviventi ha messo a segno colpi per un valore di 500 mila euro. La squadra mobile di Bibo Valencia nel corso di una perquisizione in un garage in uso ad una famiglia ha ritrovato 21 chili di marijuana confezionata pronta per essere immessa sul mercato in manette padre e figlio. Dopo anni di attesa comincia a prendere corpo la soluzione del giallo per la morte di Dennis Bergamini altro passo in avanti dopo l'incidente probatorio. Cresce l'attesa per il derby in programma domenica prossima a Lorenzo tra il Rennes e il Cosenza. La stracittadina in un campionato di Serie C torna d'attualità dopo 33 anni e caccia il biglietto previsto il tutto esaurito. Ben ritrovati dalla redazione della TGTN la cronaca in apertura furbetti del cartellino scoperti dalla Guardia di Finanza a Cosenza in sette dipendenti di un ufficio regionale con sede nella città dei Bruzzi timbravano il cartellino poi sbrigavano faccende personali. Sono accusati di truffa aggravata. Anna Franchino Siamo alle solite. Questi sono i furbetti del cartellino che dopo aver beggiato sul posto di lavoro si dedicano ad altre attività. Eccoli mentre si allontanano a piedi o in auto per sosse prolungate al bar oppure per fare acquisti presso esercizi commerciali della città. Siamo a Cosenza e quelli che vedete ripresi dalle micro telecamere occultate dalle fiamme gialle sono dipendenti della regione Calabria. Sette le misure interdittive che la procura di Cosenza ha emesso nei confronti degli indagati accusati di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. In particolare i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Cosenza attraverso una minuziosa attività di appostamento, osservazione e controllo del personale dipendente della regione Calabria impiegato in città hanno accertato le condotte illecite di alcuni dipendenti pubblici consistenti sia nel far attestare falsamente la propria presenza in servizio sia nell'allontanarsi dal posto di lavoro senza autorizzazione. L'attività investigativa condotta anche attraverso l'installazione di micro telecamere posti a presidio degli ingressi della struttura e del locale adibito a timbratura dei beige nonché pedinamenti ed osservazioni occulte ha consentito di rilevare gli effettivi comportamenti dei dipendenti ritenuti infedeli che o mettendo la timbratura o cedendo il proprio beige ad altri colleghi riuscivano a risultare presenti al posto di lavoro mentre in realtà si allontanavano illegittimamente. Le condotte illecite accertate oltre al danno economico rappresentano una grave inefficienza del servizio offerto all'utenza nonché al buon andamento della pubblica amministrazione. Ora i sette dipendenti indagati, secondo il GIP, hanno l'obbligo di presentarsi presso le forze di polizia. Il caso della sanità calabrese approda a Montecitorio ha approvato l'ordine del giorno sottoscritto dai parlamentari del Parto Democratico che hanno recepito le richieste della conferenza dei sindaci che si è tenuta ieri a Catanzaro. Di fatto viene chiesta la fine del commissariamento. Vediamo. Da Catanzaro a Roma dopo la conferenza dei sindaci sulla sanità in cui è stato chiesto a gran voce la chiusura dell'esperienza commissariale in Calabria oggi i deputati calabresi del Partito Democratico Ernesto Magorno, Stefania Covello, Enza Bruno Bossio, Sebastiano Barbanti, Demetrio Battaglia, Bruno Censore e Ferdinando Aiello hanno sottoscritto un ordine del giorno sulla situazione di emergenza che vive la regione in cui è stato denunciato non sono garantiti dei velli essenziali di assistenza. I parlamentari hanno in sostanza recepito quanto certificato dai primi cittadini e dal governatore. L'ordine del giorno è stato approvato in aula a Montecitorio. I deputati chiedono inoltre l'attivazione di un tavolo istituzionale con la regione. L'obiettivo è monitorare i finanziamenti al fine di riuscire a invertire la tendenza in una terra in cui l'emigrazione sanitaria è aumentata a dismisura. Viaggi della speranza che costano 300 milioni l'anno. In attesa che il presidente della regione, Mario Oliverio, incontri martedì prossimo il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, si consolida sul piano politico la strategia anticommissariamento. D'altronde tra la cittadella e la struttura del commissario i rapporti sono tesi da tempo. Intanto il commissario Massimo Scura critica l'iniziativa di Oliverio e rispetto ai primi cittadini dice non sanno nulla di sanità. Vediamo. La distanza tra il governatore Oliverio e il commissario Scura diventa sempre più abissale. Il duello a distanza tra i due sulla gestione della sanità va avanti. Oliverio ha cercato la sponda dei sindaci calabresi convocati ieri alla cittadella, riunione alla quale Scura non era presente. Primo perché non sono sindaco, secondo perché non sono stato invitato. Poi Scura dice la sua sul ruolo dei sindaci nella gestione della sanità. Il sindaco è responsabile della salute, della sanità, ma in termini di igiene, in termini di organizzazione sanitaria, di servizi sanitari, non ha nessuna competenza in materia. Quindi i sindaci non hanno competenza in materia specifica. Dirò di più che la Calabria paga questo campanilismo sfrenato tra tutti i sindaci, ognuno dei quali ha voluto il suo ospedaletto, la sua RSA, la sua struttura. Risultato, abbiamo 30 strutture in Calabria, 32 mi sembra, che sono state costruite con i soldi di tutti, pubblici, non solo dei calabresi, di tutta Italia, e stanno lì, vuote, senza nessun servizio dentro. Certo, però, negli anni di commissariamento la sanità calabrese non è migliorata, anzi. I dati della mobilità 2015, che peggiora rispetto a quella del 2014, di 36,6 milioni. Cioè non è uno scherzo. Però, se uno ha voglia, come dico io, con un po' di fatica di andare a capire perché, si accorgerebbe che dei 36,6 milioni, 20 sono ancora relativi all'anno 2013, e gli altri, 16 e rotti, sono relativi a 13, 14 e 15. Quindi, attaccare il commissario per questo fatto è intellettualmente poco onesto, diciamo così. Ma la situazione attuale della sanità è anche determinata forse dalla mancata sintonia tra l'ufficio del commissario e la gestione politica della Regione? Io sono convintissimo che, se ci fosse stato un dialogo che io ho sempre cercato, per la verità, sarebbe stato utile per tutti. A Reggio Calabria, oggi la seduta del Consiglio regionale, proprio nel pomeriggio, due i fatti salienti. Intanto, Domenico Tallini, del gruppo misto, è stato eletto segretario questore del Consiglio regionale. Tallini, a conclusione della votazione a scrutinio segreto, ha ottenuto 9 preferenze su 28 presenti e votanti. Questa elezione, seppure tardiva, ha detto Tallini dopo il voto, sana una profonda ferita, inferta alla democrazia rappresentativa, e cioè la sistematica esclusione del maggiore partito di opposizione dall'organismo che deve garantire funzionamento ed imparzialità alla massima assemblea elettiva della Calabria. Ancora, da Reggio ha annunciato la decisione di abbandonare il gruppo di Forza Italia, aderire a quello di area popolare Nazareno Salerno. Il Consigliere regionale della Calabria ha reintegrato oggi nell'assemblea dopo la revoca del suo arresto da parte del Tribunale del Riesame di Catanzaro. In aula ha detto, non ho commesso i reati che mi vengono contestati. Finisce in manette una banda di rapinatori nel Reggino. Avevano messo a segno colpi negli esercizi commerciali per un valore pari a mezzo milione di euro particolari del nostro servizio. Scacca ad una banda di rapinatori, nove gli arresti tra la piana di Gioia Tauro e la Locride. Nelle prime ore della mattina tra i comuni di Polistena, Città Nova, Cinque Frondi, Locri e Gioiosa Ionica, i militari del gruppo Carabinieri di Gioia Tauro, in collaborazione con il personale del gruppo Carabinieri di Locri e dello squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di questi nove soggetti, di cui due agli arresti domiciliari e gli altri in carcere, emesse dal GIP presso il Tribunale di Palmi su richiesta della locale procura. Ritenuti responsabili di associazione per delinquere, finalizzata la commissione di rapina, furto, ricettazione ed altri delitti in materia di armi stupefacenti. Si tratta di Borgesi Evelio, 33 anni, di Polistena, Commisso Luigi, 38 anni, di Gioiosa Ionica, De Domenico Francesco, 30 anni, di Locri, De Luca Simone, 25 anni, di Gioiosa Ionica, Ferrazzo Raffaele, 30 anni, di Cinque Frondi, La Versa Romina, 34 anni, di Rizziconi, Tarzia Angelo, 35 anni, di Cittanova, Tavernese Carmelo, 34 anni, di Polistena, Tavernese Lorena, 29 anni, di Polistena. Sono tutti pregiudicati, l'indagine nasce da una rapina commessa nel settembre 2016 ed è stata portata avanti dalla compagnia di Tauria Nova con riscontri sul territorio, pedinamenti e anche attività tecniche. Ha consentito di documentare una serie di rapine, otto rapine commesse tutte quante nella piana di Gioia Tauro. L'operazione fra l'altro oggi conclusa ha anche consentito di individuare un locale del centro di Cittanova, uno stabile del centro cittadino che era stato adebito a essiccatoio per la marijuana. Si nascondeva nell'Odigiano dove abitava con la famiglia Giuseppe Morabito, 49enne, originario di Reggio Calabria, colpito da un ordine di carcerazione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tra l'Italia e il Sud America. L'uomo ricercato da tempo si è costituito nella casa circondariale di Milano. Bollate, vediamo. Sarebbe acclarato che Giuseppe Morabito sia un narcotrafficante di alto livello, un profilo insomma da serie A, secondo le assezioni della procura di Reggio Calabria e i tanti investigatori che di lui si sono interessati. Organico all'Andrangheta, la Locride fu il primo laboratorio di attività, Giuseppe Morabito, 49enne, originario di Reggio Calabria, da tempo risiedeva fuori regione. Si era sistemato all'Odi Vecchio, inseguito da una condanna a 14 anni di reclusione, della quale deve espiare 9 anni e 4 mesi. Morabito è stato ritenuto colpevole di traffico di stupefacenti tra l'Italia, il Sud America, Olanda e Belgio. Era stato arrestato nel 2007 nell'ambito dell'operazione Stupor Mundi, poi, nell'emore del procedimento, era tornato in libertà. Secondo gli investigatori, si nascondeva all'Odi Vecchio, ieri però si è presentato presso la casa circondariale di Milano Bollate e si è costituito. La direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha sempre ritenuto Morabito un elemento divertice di un gruppo criminale che ha gestito un'enormità di soldi grazie alla droga. Sarebbe stato anche lui ad avviare contatti e poi concretizzare affari con trafficanti operanti in Olanda, Belgio e alcune nazioni del Sud America. Avrebbe contribuito all'import da quei paesi di tonnellate di cocaina da piazzare nei mercati di Piemonte e Lombardia. A Vivo Valencia, dove la squadra mobile ha scoperto in un garage e 21 kg di marijuana sono stati arrestati padre e figlio. Vediamo. Operazione della squadra mobile di Vivo Valencia che insieme agli agenti del reparto prevenzione crimine ha arrestato padre e figlio a Pernucari per possesso di sostanze stupefacenti. Come spiegato nel corso di una conferenza stampa, i poliziotti durante una perquisizione hanno rinvenuto, occultati in un garage attiguo alla loro abitazione, 21,5 kg di marijuana. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato 200.000 euro. Vero protagonista dell'operazione, condotta da una quindicina di agenti, è stato il cane poliziotto Floyd, già utilizzato in altre blizze antidroga che con il suo fiuto ha subito individuato la marijuana. Inizialmente si è proceduti a effettuare la perquisizione presso l'indirizzo di residenza delle due persone. Dopo un'attenta attività di monitoraggio si è poi riusciti a individuare il padre che nel frattempo era stato rimesso in libertà perché fino a quel momento non era stato trovato in possesso di alcun tipo di sostanza stupefacente, cercare di allontanarsi e arrivare in un garage nei pressi della loro abitazione cercando anche di entrare e portando via appunto dalla droga. Da lì quindi poi l'equipaggio del reparto prevenzione crimine che ha individuato il padre lo ha bloccato dopo un brevissimo inseguimento e si è poi giunti appunto al rinvenimento di tutta questa sostanza. La scoperta è avvenuta grazie ad un lavoro d'equip tra i diversi attori della polizia. Sì, assolutamente. Questo qui rappresenta il risultato di un attento lavoro di monitoraggio posto in essere costantemente dalla polizia giudiziaria, dalla polizia di Stato che permette di coniugare al meglio l'attività di informazione all'attività di repressione. A fronte di alcune informazioni la polizia giudiziaria effetta appunto dei riscontri all'esito dei quali poi si interviene con un'attività di perquisizione come in questo caso poi avendo anche un risultato assolutamente positivo. Il caso Bergamini, altro passo in avanti verso la verità dopo l'incidente probatorio di ieri, dopo 28 anni verso la soluzione del giallo. Sentiamo. Comincia qui il mistero di Dennis, davanti ad un cinema in una giornata piovosa come quella di oggi. Da qui inizia il viaggio senza ritorno del calciatore rosso-blu, un film giallo con attori protagonisti e comparse che nel tempo si scambieranno ruoli e ribalta. I due misteriosi individui che lo aspettano fuori dalla sala, l'ex fidanzata e l'autista del camion che irrompe sulla scena nel tratto di Statale 106 che per anni e anni sarà ritenuto il palco principale della tragica fine di Dennis. Suicidio è la parola chiave nell'immediatezza. Dennis avrebbe deciso di fuggire, chissà da cosa, chissà perché e il castello, nonostante le tante crepe, regge a lungo. Nonostante già la prima autopsia effettuata con notevole ritardo, accerti lo schiacciamento del corpo del calciatore e l'assenza di altre ferite. Situazione incompatibile con il trascinamento raccontato dai testimoni nella ricostruzione dei fatti. L'increduità dei familiari si trasforma ben presto in dubbio. Un tarlo che cresce a dismisura, alimentato dai contributi di persone vicine a Dennis e alla squadra, dalle incongruenze che vengono fuori una dopo l'altra, dalle strane circostanze legate alla sparizione degli abiti, alla posizione della Maserati di Dennis, allo stato di perfetta conservazione di quei pochi reperti disponibili, le scarpe, l'orologio, la catenina. Ma quello di Dennis è per tutti in suicidio e così si va avanti. Nel 1994 la questura di Cosenza, in modo autonomo, chiede la riapertura del caso. A Castrovillari si apre quindi un'indagine contro ignoti, rubricata prima per omicidio volontario e successivamente archiviata. Nel 2009, invece, arriva un forte impulso a città di Cosenza. Il 27 dicembre si celebra il Bergamini Day. Un corteo sfida per le strade e giunge davanti al tribunale, chiedendo verità per Dennis. Nel giugno 2011 la procura di Castrovillari, per mano del procuratore capo dell'epoca, Franco Giacomo Antonio, decide di riaprire l'inchiesta sulla morte di Donato. Interpellati, i RIS di Messina sostengono che, quando venne adagiato sull'asfalto della statale 106, Dennis Bergamini era già morto. Non basta, l'inchiesta sarà archiviata nel 2015, per mancanza di prove. Ma non è finita. A Castrovilla riarriva il procuratore Gionio Facciolla e la famiglia Bergamini non si arrende. Servono nuovi contributi. Si riapre l'inchiesta e si procede ad una nuova risumazione del cadavere, analizzato con i mezzi più moderni a disposizione da parte dei consulenti del GIP Teresa Riggio. Il risultato degli esami, svelato e spiegato ieri durante il cidente probatorio, conferma la morte per asfissia, precedente allo schiacciamento del corpo. Un sacchetto di plastica, o una sciarpa, avrebbe determinato il decesso del calciatore. La storia continua a distanza di 28 anni, ma il finale sembra più vicino. Siamo in piena fase di indagini preliminari, quindi questo vi fa capire che non si può parlare né di cosa si sta facendo, né di quello che si farà. Finita l'udienza, guardiamo avanti. Ci potete, se ci sono altri indagati? Arrivederci, buona giornata. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Spacciavano banconote false tra la Puglia e la Calabria, sei le persone finite in manette. Si tratta di quattro tarantini e due napoletani, ventuno in totale comuni nelle province di Taranto, Cosenza, Brindisi, Lecce e Bari, nei quali gli indagati hanno speso mediamente otto nuove banconote false da cento euro nel giro di poche ore, presso vari piccoli esercizi individuati, prediligendo quelli privi di dispositivi di controllo delle banconote ed impianti di videosorveglianza. I carabinieri di Corigliano Calabro hanno eseguito controlli mirati presso le case popolari di Cassano all'Ioni o denunciato una donna del posto per danneggiamento aggravato e occupazione abusiva di alloggi di residenza pubblico popolare. La donna è stata trovata senza alcun titolo all'interno di un appartamento dopo aver danneggiato la porta d'ingresso dello stesso. I finanzieri del comando provinciale di Reggio Calabria hanno arrestato e posto domiciliare un pescatore di Bagnara Calabra che avrebbe indebitamente percepito contributi relativi al Fondo Europeo per la Pesca e seguito inoltre il sequestro preventivo di conti correnti postali ed autovetture per 40.000 euro. Le indagini iniziate nel 2016 hanno permesso di verificare come l'uomo utilizzasse false attestazioni e pubblici sigilli contraffatti per accedere al fondo comunitario. Cinque persone sono state denunciate dai carabinieri di Nicotera Marina Perrissa coinvolti due nuclei familiari. All'origine della risse è una banale discussione per la posa di un cavo per far passare la fibra ottica che avrebbe interessato proprio il muro che cinge il confine tra le due proprietà. Controlli dei carabinieri questa mattina a Cosenza esattamente in via Popilia decine di uomini come vedete nella foto unità cinofile antidroga e squadre dell'Enel per verificare la regolarità degli allacci alla linea elettrica. Arrestato un 36enne per detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente. Quattro le persone denunciate per furto di energia elettrica. Sette le multe elevate per violazioni al codice della strada. Cambiamo decisamente argomento. Siamo allo sport. Cresce l'attesa per il derby in programma domenica prossima al Lorenzo tra Rende e Cosenza. La stracittadina in un campionato di serie C torna d'attualità dopo 33 anni ed è caccia al biglietto previsto il tutto esaurito. Vediamo. Rende e Cosenza più che un derby può essere considerata una stracittadina. Due comunità che si intrecciano ad un tiro di schioppo l'una dall'altra. esistono confini geografici ma i cittadini rendesi si sentono cosentini. Non tutti ovviamente. Per qualcuno la passione calcistica è sacra. Siamo vecchi simpatizzanti del Rende. Sono oltre a 40 anni che lo seguiamo. Cosa pensa di questa stagione? Beh, pensiamo che c'è tanto delle belle soddisfazioni che sta dando. Speriamo che continui a darcela. Domenico un pronostico? Un difuso spera sempre la vincita. Poi quello che viene ci teniamo. C'è però chi nonostante abiti da tempo nella città del Campagnano domenica tiferà per i colori rosso-blu. Nonostante abito da due o tre anni a Rende lavoro pure qui tipo sempre per il Cosenza perché sono nato a Cosenza. Ho vissuto lì per 22 anni quindi sempre solo forse a Cosenza. In tanti nei giorni scorsi hanno preso d'assalto i botteghini. Oggi allo Stadio Lorenzon si mettono a punto le ultime modifiche al settore riaperto per ospitare il grande afflusso di tifosi. Ma per chi ancora non ha acquistato l'ambito tagliando restano ancora pochi posti. I settori ospiti sono rimasti intorno ai 150. In Tribuna Ovest il lato nord scoperto altri 200 più o meno. Sono quanti venduti? Un migliaio qui da noi in agenzia. Il derby però resta sempre una gara a cui non si può mancare. Amante di questo derby perché è un derby fra due diciamo tifoserie tradizionalmente non molto amiche ma siamo cugini secondo me e quindi assolutamente ci tengo a vedere questa partita. Quindi non ti ferà per nessuna delle due? Esattamente cioè chi vince sono contento. Ho il sangue rosso blu purtroppo. e quindi il sangue rosso blu quindi domenica parteciperà a questa partita. Perché parteciperò. Al bar vicino allo stadio il derby tra amici è già iniziato. Domenica mi auguro che venga il Cosenza più di questo che potrebbe prendere. E andrà a vedere la partita? No non ci vado soffro soffro perché non sto bene. E quindi la sentirà magari da fuori lo stadio? Sento la radio sto con la finestra sopra aperta vediamo un po'. Io sono più rendese diciamo rispetto a lui anche se poi non è che mi ammazzo insomma per fare e comunque mi auguro che sia una bella partita che ci sia soprattutto molto buon senso che non succedano fatti brutti negativi e che poi il risultato forse un pareggio potrebbe anche accontentare tutte le due squadre. Non ci vado proprio per evitare discussioni con gli amici facciamo un vogliamoci bene per questa volta. Ma c'è chi anche se giovanissimo ha le idee chiare su come finirà la sfida. 0-3 per il Cosenza Statella Baclet Baclet A Villa Rendano ho presentato un libro che serve a capire davvero l'Unione Europea e il suo funzionamento vediamo. C'è tanta confusione quando si parla di Unione Europea che spesso viene confusa con altri organismi burocratici come ad esempio il Consiglio d'Europa o la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nasce da questa riflessione il volume di Massimo Fragola L'Europa dei Popoli o degli Stati l'integrazione spiegata attraverso il diritto dell'Unione Europea presentato a Cosenza a Villa Rendano. È venuta la voglia di spiegare in modo semplice molto semplice quasi elementare e questo sistema complesso e spiegare che non è vero che c'è una Germania che comanda sul piano politico sicuramente ci sono stati che pesano di più ma certamente anche l'Italia è tra questi e spiegare un po' come avvengono i meccanismi come vengono fatte le leggi europee e capire che in questo momento storico c'è maggiore voglia di Europa una necessità dello stare insieme l'Unione Europea è una risposta alla globalizzazione oggi gli stati sono piccoli si va per macro aree non a caso in questi giorni in Africa c'è il summit tra Unione Europea e Unione Africana quindi il mondo va in un certo modo cerchiamo di stare insieme il meglio possibile un libro importante dunque che non solo racconta la storia dell'Europa ma offre un valido sostegno per districarsi nei meandri dell'Unione Europea attraverso il diritto giuridico e la conoscenza delle istituzioni a Castorubillari per la rassegna teatrale prima fila la sedicesima edizione in programma dal 16 dicembre al 17 marzo da Paolo Antoni alla PFM passando per la comicità di Made in Sud vediamo sta per ritornare prima fila sedicesima edizione un ricco cartellone e tante le novità questo è il sedicesimo anno la sedicesima edizione di una rassegna che sempre più sta avendo grande successo e grandi riconoscimenti da parte di tutti di questo ne siamo molto fieri perché è un lavoro che si fa anno per anno e parlavamo di eventi uno fra tutti diciamo quello del 30 dicembre portiamo la famosissima premiata forneria Marconi qui al Teatro Sibaristi di Castorubillari inserita all'interno di un contesto di un concerto che è veramente straordinario un tour mondiale ma tanti sono gli artisti che saranno qui presenti a Castorubillari a Mormanno a Morano e a Cassano e tra questi Francesco Paolo Antoni e Stefano Sarcinelli Nino Abacuccio Carmine Faraco e Sidi Rom Luca Bartolino e Gaetano Bitonto e ancora Simone Schettino Gabriele Cirilli Enzo Iacchetti Giobbe Covatta per finire con Beppe Braida la presentazione dell'evento nella sala del centro servizi del Parco del Pollino alla presenza del presidente Mimmo Pappaterre dei sindaci di Castorubillari e Morano Calabro rispettivamente Mimmo Lopolite e Nicolo De Bartolo tutti in prima fila dal 16 dicembre ancora per gli appuntamenti il Gran Galà della solidarietà organizzato dalla Cinecircolo Maurizio Grande di Diamante giunto alla quarta edizione No Femminicidio è il tema dell'evento in programma sabato prossimo 2 dicembre alle 18 nella sede del Cineteatro Vittoria di Diamante l'iniziativa patrocinata dall'associato al welfare del comune di Diamante e dallo sportello antiviolenza alla Ginestra l'incasso della serata condotta da Ugo Floro sarà devoluto alla fondazione Roberta Lanzino di Rende sul palco Franco e Matilde Lanzino la criminologa Monica Capizzano la presidente dello sportello antiviolenza alla Ginestra Teresa sposato e chiudiamo con il meteo ben ritrovati dallo staff di MeteoInCalabria.it due figure ad alta pressione una ad ovest sull'oceano atlantico l'altra ad est sulla Russia stanno agevolando una poderosa discesa d'aria artica che sta avvolgendo gran parte d'Europa nel freddo provocando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione dove comunque l'abbassamento consistente delle temperature è previsto solo per il fine settimana diamo quindi uno sguardo alle previsioni in dettaglio sulla Calabria per le prossime ore venerdì cieli nuvolosi ovunque con piogge sparse un po' su tutta la regione più frequenti sui versanti ionici centro-meridionali possibili deboli nevicate sui monti della Sila a oltre i 1600 metri con locali sconfinamenti anche a quote più basse e sulle vette dell'Aspromonte temperature in calo nei valori massimi analizziamo adesso lo stato di mari a venti venerdì mari mossi tranne lo Ionio Cosentino che sarà poco mosso sotto costa 20 deboli di direzione variabile sull'intero Martirreno e sull'Ionio Cosentino sul resto dello Ionio 20 moderati da nord-est per ulteriori approfondimenti vi rimando come di consueto al nostro sito internet www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina facebook Meteo in Calabria su cui vi invito ad apporre il vostro mi piace bene la puntata termina qui grazie ed arrivederci al prossimo appuntamento è tutto ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi grazie in regia Michele Cava in Messinonda Giuseppe Costanzo noi vi auguriamo un buon proseguimento grazie a tutti